SEMAFRO VERDE Sta per scattare, proprio in questi istanti è il Bar Ponte Sille a gestire il primo pallone Proprio lui stesso se ne è in carica dalla battuta, palla che attraversa tutta l'aria Prende la Renzi sulla parte opposta, sulla sinistra, attende anche il piazzamento dei compagni di squadra Poi ancora il passaggio, c'è il gol subito in apertura con il numero 23 Petiti che deposita la palla in rete, c'è il vantaggio Bove Vede l'unica possibilità verso Parisella al sinistra, poi mette la palla, il centro, il cellettino E c'è il gol del pareggio con Venerelli Ci ha messo poco a riorganizzarsi, a questo punto il Terracina Arriva Campagna che mette giù, poi la perde subito il recupero provvidenziale da parte di Divito che se ne va verso la porta Arriva subito Viscusi con le mani Celli a sinistra, arriva verso la linea mediana del campo Prova il Mancino, la soluzione Chiede anche l'aiuto da parte di Schiavone A destra c'è Petiti, spalle, riceve poi i palloni C'è Venerelli e c'è anche Viscusi Parti Venerelli Il tiraggiro sotto il set inferiore Appunto c'è il gol del vantaggio di Venerelli su calcio di punizione Porta in vantaggio il Terracina Onorato Recupera, esce bene il Terracina con Parisella che se ne va a sinistra C'è Venerelli al centro E c'è il gol di Venerelli con la tripletta Affidata alle mani di Francesco Toto Petiti Ancora Toto, Francesco, Petiti Lo stop con il petto Prova la soluzione La risposta di Palmacci Petiti Verso Campagna Petiti, ferma il pallone Poi lo mette in mezzo E sul colpo di Onorato c'è la traversa Si porta Parisella Palla in mezzo Allontano dal Pietro Poi non c'è la battuta perfetta Da parte di Venerelli Pallone in mezzo Petiti riesce a farlo suo Finisce a terra Non c'è fallo Bracciale Si distende il Terracina 3 contro 3 E centrale Prova Bracciale Alza Con le mani viscusi Sopra la traversa Palla messa in mezzo Non riesce il tocco da parte di Vito Celli Petiti Verso Schiavone Schiavone Petiti Poi la risposta di Palmacci E' un 3 contro 2 questa volta Bracciale Attende l'inserimento dei compagni Poi serve Verso Lauretti Prova la soluzione C'è il tocco da parte di Silvi Deviazione E calcio d'angolo Ancora per il Terracina Traccitto che ha la meglio Poi Lauretti Mette in mezzo C'è la deviazione Arriva anche il gol di Venerelli Veramente una spina nel fianco Schiavone resta all'indietro Soltanto Notarpietro Silvi Schiavone Prova dalla distanza Tutto in avanti Adesso Barpontesilli Cercando di riaprire la partita Ancora Poi Renzi Si accentra Arriva in suo aiuto Anche il Bomber Lauretti Che trafigge Vi scusi Per il quinto gol Di questa contesa Notarpietro Se ne va a destra Quasi indisturbato Toto Pierluigi La deviazione di Palmacci Arriva il Tripilice Fischio Finale Terracina Batte Barpontesilli 5 a 1 Autentico Mattatore Venerelli C band Buon Ben On On Grazie a tutti.